E' un motociclista romano di 52 anni, la vittima del pauroso incidente stradale avvenuto questo pomeriggio all'altezza del km 63 della 12. L'uomo è finito nell'altra carreggiata. Tornano a due i casi a Civitavecchia. Una donna di 36 anni, a seguito del tampone per la preospedalizzazione per un parto programmato, ha scoperto di essere positiva. Grande seguito per la trasmissione andata in onda su Tele Civitavecchia, nella quale l'ecologista Agustinelli ha lanciato l'idea di un progetto ad idrogeno. PD e Verdi appoggiano l'idea. E' stata approvata la delibera per il rientro del comune nel Consorzio per l'Osservatorio Ambientale, critica alla scelta dell'amministrazione dal Movimento 5 Stelle. Lateral servizio dello sport, l'azienda offre incomodato, d'uso gratuito e una propria struttura inutilizzata, il puggere Gasparri, punta di diamante della neonata Civitavecchia, box. Ancora una buona serata e apriamo come di consueto con il Covid-19. Tornano a due i positivi a Civitavecchia. La regione Lazio ha comunicato che c'è un nuovo caso riscontrato nel territorio dell'Asle Roma 4. Si tratta di una donna di 36 anni di Civitavecchia che a seguito della preospedalizzazione per un parto programmato a metà del mese, cioè il 14 luglio, nel reparto maternità è stata trovata positiva e trasferita al Gemelli di Roma. Come da Plassi, l'Asle Roma 4 ha avviato l'indagine epidemiologica per analizzare i contatti della donna. Oltre a loro è stato sottoposto a tampone tutto il personale entrato a contatto con la futura mamma che hanno già dato esito negativo. E veniamo alla cronaca. È un motociclista romano di 52 anni, la vittima del pauroso incidente stradale, avvenuto questo pomeriggio all'altezza del chilometro 63 della 12 nel territorio di Civitavecchia, fra l'uscita Civitavecchia Nord e Tarquinia. La polizia stradale di Ladispoli sta indagando per accertare la dinamica dell'incidente che presenta aspetti che hanno dell'incredibile. Il centauro, che viaggiava probabilmente a velocità sostenuta, si è infatti schiantato contro lo spigolo posteriore di un mezzo pesante in avaria che si trovava fermo sul lato destro della carreggiata. L'urto è stato talmente violento che il corpo del motociclista è stato ritrovato nella corsia d'emergenza del lato opposto, mentre la moto è stata spezzata in due. Dopo rilievi, il cadavere dell'uomo è stato portato nell'obitorio di Civitavecchia e riconsegnato alla famiglia. Ha avuto grande seguito ed ha alimentato il dibattito politico, la trasmissione che è andata in onda ieri mattina su Tele Civitavecchia, nella quale l'ecologista Mario Costinelli ha lanciato l'idea di un progetto ad idrogeno che potrebbe essere adattato a Civitavecchia nel ambito della riconversione di torre Valdalica Nord. Progetto sul quale sta lavorando l'associazione Città Futura, che ha chiesto al sindaco tedesco un consiglio comunale aperto su TVN e la costituzione di una task force ad hoc. Abbiamo parlato a Costinelli di occasione per il nostro territorio, perché c'è ovviamente la questione della Carbon Exit di torre Valdalica Nord, e questo è un passaggio decisivo, si parla di turbogas, quindi rimarremmo sui combustibili fossili, però si potrebbe pensare anche ad altro? Sì, io credo che sarebbe un grave errore pensare al turbogas in questo momento, vi posso dare almeno due indicazioni che rendano impercorribile questa strada. La prima è che il tasso ormai di emissioni di CO2 è talmente elevato da non riuscire a mantenere l'obbligo che Parigi ci aveva consegnato. Cioè l'Europa, tra l'altro, propone al 2030 una quantità o il 68% di energie rinnovabili e non si vede come e dove si debba mettere il gas, il quale quando brucia ovviamente emette anidride carbonica. Ma la seconda grossa questione riguarda il fatto che fare un investimento oggi sul gas significa rendicontarlo al costo che oggi ha l'emissione della CO2. Cioè ha un costo assolutamente inadeguato. Allora perché buttare dopo il Covid in una situazione così grave i soldi in continuità con un modello sbagliato quando si potrebbe risanare e avere soprattutto grandi fondi dall'Unione Europea che ieri ha siglato un accordo dove per la prima volta il vettore idrogeno che si accompagna alla decarbonizzazione potrebbe risolvere problemi che vanno al di là del solo luogo della centrale. Quindi io sono molto impressionato dal fatto che la risposta civita vecchia, lo dimostra anche questa nostra chiacchierata, sia pronta, ma che le potenze economiche e anche una certa incertezza della politica freni questo cambiamento. In realtà ciò a cui noi assistiamo, almeno su questo territorio, è una mozione di Consiglio Comunale che voi sapete vale più o meno come uno starnuto, per non dire altro, contraria all'ipotesi del turbogas e il silenzio assoluto. Qual è il tema di fondo che noi solleviamo? È che civita vecchia merita di diventare un laboratorio virtuoso per la riconversione e la bonifica dell'intero territorio. Il Comune faccia subito due cose, un Consiglio Comunale aperto su una proposta di civita vecchia come laboratorio su idrogeno da rinnovabili e una task force immediata con le forze politiche tutte, le forze sindacali, gli imprenditori e gli esperti. Dobbiamo mettere in campo questo, questa è la proposta che noi facciamo, almeno sul piano locale al sindaco Ernesto Vedesco, e a tutte le forze politiche di mobilitarsi e di aderire a questa nostra proposta e di mobilitare i propri parlamentari e i propri dirigenti nazionali. Il Partito Democratico afferma di eseguire con grande interesse il dibattito sul cambiamento energetico aperto da Mario Agostinelli e dell'Associazione Città Futura. In un momento in cui il nostro partito ha presentato le osservazioni contro il progetto a turbogas di Torre Valdalica Nord diventa di assoluta importanza una fase propositiva e alternativa all'esistente, affermano dal PD. Riteniamo che per troppo tempo nel nostro territorio vi sia stata una marcata assenza della politica rispetto ad un processo di analisi ed elaborazione di percorsi virtuosi che possano proiettare la nostra comunità verso un futuro energetico ecosostenibile, oggi prospettato da tutti. Il Partito Democratico ricorda il piano di investimenti di oltre 180 miliardi di euro con la possibilità di arrivare a quasi 500 miliardi entro il 2050 presentato dalla Commissione Europea per l'idrogeno green ed energia pulita. Elementi fondamentali continuano i DEM nel contesto attuale che ci inducono maggiormente a raccogliere l'invito a valutare attentamente l'idea degli elettrolizzatori a idrogeno rinnovabile, auspicando possa divenire elemento di un dibattito trasversale all'intero panorama politico-cittadino nella consapevolezza che la battaglia per il futuro ambientale, sanitario e occupazionale del nostro litorale non è e non potrà mai essere appannaggio di un solo schieramento, ma all'obiettivo prioritario di chiunque abbia a cuore il futuro di tutti. Ed anche i Verdi appoggiano convintamente l'iniziativa dell'ingegner Agostinelli e dell'Associazione Città Futura per stimolare la politica ad ogni livello necessario affinché Civitavecchia non perda una grande opportunità di rilancio e di crescita. Il riferimento è al progetto lanciato ieri dall'ecologista e sostenuto dall'Associazione. Sostenere la produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili a Civitavecchia affermano i Verdi non solo a valore di sostenibilità e di innovazione ma può essere volano di crescita nel settore metalmeccanico e portuale innescando opere di ambientalizzazione sulle banchine proprio per le specifiche esigenze che la produzione dello stesso unitamente allo stoccaggio, in sicurezza e al trasporto determina. Crescita occupazionale e sostenibile che certamente non è garantita dalla transizione verso il gas. E passiamo al Consiglio Comunale nel corso del quale che si è svolto appunto questa mattina e che è proseguito fino al primo pomeriggio all'Aula Pucci ed è stata approvata la delibera per il rientro del Comune di Civitavecchia nel Consorzio per l'Osservatorio Ambientale. Critiche alla scelta dell'amministrazione da parte del Movimento 5 Stelle. Il Partito Democratico si astiene. Vediamo l'intervista all'assessore all'ambiente Manuel Magliani. Manuel Magliani è stato appena approvato in Consiglio Comunale il rientro del Comune di Civitavecchia nell'Osservatorio Ambientale. Perché questa scelta da parte dell'amministrazione comunale? L'amministrazione comunale ha fatto una scelta di grande coraggio, ambiziosa perché questo territorio ha bisogno di aumentare la consapevolezza di quella che è la situazione e i fattori di pressione ambientale. In questi anni la gestione abbiamo visto che è stata affidata esclusivamente ad un soggetto pubblico che però nei vari appuntamenti e nei vari conferenze dei servizi probabilmente avremmo avuto bisogno di ulteriori supporti e di ulteriori strumenti di legittimazione. Il Consorzio per la gestione dell'osservatorio ambientale sarà sicuramente nella visione del Comune di Civitavecchia uno strumento che potrà supportare adeguatamente il Comune ed il comprensorio. Le istanze sono del comprensorio, non sono soltanto del Comune di Civitavecchia e questo rientra anche nello spirito che ha dato il sindaco Ernesto Tedesco di voler fare squadra e di portare avanti dei progetti anche e soprattutto in materia ambientale condivisi con un comprensorio per dare anche una maggiore forza alle idee che vogliamo portare in quello che non è un ritorno al passato come qualcuno ha voluto strumentalmente sostenere legittimamente, per carità. Però è un nuovo inizio, noi lo intendiamo come un partire da zero su una situazione che vede la città fortemente esposta, soprattutto in questo momento. Magliani, come lei già ha detto, non sono mancate le critiche in particolare dal Movimento 5 Stelle che era andato nella direzione opposta nel corso della sua amministrazione, uscendo dall'osservatorio ambientale preoccupati, semplificando, di quella che è la veridicità dei dati che emergono. Cosa rispondete a queste critiche? Ma io non mi sento minimamente chiamato in causa da queste critiche soprattutto perché queste critiche riguardano amministrazioni o scelte che sono state fatte in passato. Ogni amministrazione nel rispetto del mandato elettorale ha il diritto e il dovere di assumere delle decisioni. Noi l'abbiamo fatto, è una scelta forte e di coraggio. Chi in precedenza ha avuto degli orientamenti probabilmente avrà fatto le sue valutazioni. Noi riteniamo che questa città e questo comprensorio debbano ottimizzare nel miglior modo possibile le risorse che ci sono a disposizione per poter garantire una consapevolezza maggiore e una tutela dei cittadini dei fattori di pressione ambientale che sono tanti e che sono anche in continua evoluzione con lo sviluppo vero e proprio di nuove forme anche di inquinamento. Questa mattina il Comune ha conferito la cittadinanza onoraria alla Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Civitavecchia durante la seduta del Consiglio Comunale. L'evento ha visto la partecipazione del Comandante della Capitaneria di Porto anche sede di direzione marittima Capitano di Fascello Francesco Thomas del Contrammiraglio Vincenzo Leone che ha appena lasciato lo stesso comando e a cui si deve la profigua interlocuzione con l'Amministrazione Comunale per l'ambito di conoscimento e di una ridotta ma significativa rappresentanza di militari della sede contingentata a causa delle vigenti disposizioni in materia sanitaria. A margine dell'approvazione dell'atto deliberativo da parte del Consiglio Comunale il Sindaco della Città, Avvocato Ernesto Tedesco ha consegnato al Comandante Thomas l'onoreficenza su pergamena ringraziando gli uomini e le donne della Guardia Costiera che nel corso del tempo, attraverso la loro attività istituzionale hanno rappresentato e rappresentano un punto di riferimento costante per la collettività divenendo simbolo di tutela e sicurezza per la vita umana in mare rispetto per l'ambiente e di legalità in mare e sulle coste per il fine ultimo del bene comune della città di Civitavecchia. E torniamo al Consiglio Comunale che non sono mancati i momenti di tensione con botta e risposta in due round fra il Consigliere Comunale del gruppo misto Giancarlo Frascarelli e del segretario generale Pompeo Savarino quest'ultimo ha anche minacciato di portare la registrazione della seduta del Consiglio Comunale in procura. Vediamo alcuni momenti concitati della Massima Assisi. Il mio volto è cupo perché sono rimasto veramente male. Il mio tono è basso ma io sono sempre più deciso. Grazie. Ma veramente non vogliamo finirla più. Lei scrive al prefetto cosa le ho detto. Deve cambiare metodo. Andiamo avanti con la proposta. Ma devo avere paura io di lei. Santo Dio! Cosa le ho detto di offensivo? Mi dica la parola! Io non lo tollero questo atteggiamento. Scrive al prefetto cosa ho fatto? Ho rubato? Ho rubato? Allora... Io vado via... Giancarlo posso? Non posso più occuparmi del ruolo. Giancarlo? Ragazzi io non sono un ragazzino. Giancarlo? Io non sono un ragazzino. Mi credo di rispettarmi perché io do il cuore per tutta la maggioranza. Ma io mi metto solo questa è la mazzina del rispetto. Giancarlo? Io voglio... Senti Pasquale, io sto uscendo. Fai come vuoi. Esco solo io. Rimani tu. Fai come vuoi. Non mi interessa la regione. Mi interessa il comportamento di questo tipo. Nonostante ha dato una spiegazione. Vengo anche in questo offre. Arriva l'orario unico per la raccolta dei rifiuti porta a porta anche se per il momento limitato alla sola estate. CSP informa gli utenti che a partire dal 15 luglio e fino a nuova comunicazione le utenze commerciali, i cittadini della cosiddetta zona 2, dovranno esporre i contenitori della raccolta differenziata dalle 21 anziché dalle ore 9, analogamente a quanto già avviene in zona 1. Per la società si tratta di un'iniziativa fondamentale che consentirà un miglioramento del servizio e allo stesso tempo permetterà agli operatori di evitare di lavorare nelle ore più calde della giornata. In questo modo l'esposizione dei contenitori della raccolta differenziata viene uniformata in tutte le zone della città senza più differenziazioni. CSP raccomanda a tutti gli utenti di lasciare esposti i mastelli per tutto il tempo necessario all'esplodamento del servizio, anticipando che indicativamente in zona 2 il mastello dovrà rimanere esposto almeno fino alle ore 14. CSP si dichiara certa che dopo qualche probabile difficoltà nella fisiologica fase di equilibrio possa essere raggiunto il più importante risultato di miglioramento del servizio e ringrazia gli utenti per la disponibilità e la collaborazione. I funzionari dell'ufficio Dogane Monopoli, in sinergia con la Guardia di Finanza, hanno sequestrato sette piante rinvenute all'interno di un furgone di proprietà di un cittadino tunisino sprovviste dei regolari certificati di importazione previsti dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. Le piante sono state affidate all'Orto Botanico di Roma. I controlli dugonali, posti in essere in attuazione della Convenzione, sono finalizzati a contrastare il commercio illegale della flora e fauna selvatica e rappresentano un fondamentale presidio a tutela delle specie in via di estinzione concorrendo alla salvaguardia della biodiversità. E domani, per la rassegna dal mito alla storia, promossa dal Proloco e dedicata ai grandi poemi dell'Odissea, dell'Eneide e dell'Eliade, si darà il primo spettacolo nella suggestiva cornice delle Terme di Traiano. Alle 21.30 andrà in scena l'Odissea ideato da Gino Saladini e che vedrà la partecipazione di diversi musicisti e le immagini del figlio Ettore. Gino Saladini è il direttore artistico dell'Interra Rassegna. Tre episodi, diremmo, di un percorso molto importante nel viaggio nel tempo. Direttore artistico, ma inter pares, perché ho soltanto ricoperto un ruolo di coordinamento. Le opere sono tre, come vedete alle mie spalle. 11 luglio il viaggio di Odisseo, 18 luglio Eneo e chi altro, 25 luglio i fragili eroi dell'Eliade. Il viaggio di Odisseo. L'Odissea ripercorsa però come teatro canzone, con i miei collaboratori storici, Marco Manovelli, tenore, che canta, la band Ermano Pizzardi, Arei Tastiere, Fabio Pizzardi e le percussioni, Gino Fedeli al fricorno, Massimo Pelo al basso e Antonio Carimane alla chitarra. E Emanuele Seretti, ragazzo straordinario, studioso di greco e di latino, che reciterà parti, parti diciamo in originale dell'Odissea e il video di commento di Ettore Saladini. Come nasce questa collaborazione paterna ma con tanti amici? La collaborazione nasce senza dubbio grazie a papà che è sempre molto coinvolgente ma anche grazie al mio amore per il cinema e anche alla mia passione che nutra proprio per creare questi contenuti visivi. Questi contenuti hanno il compito di accompagnare gli spettacoli, renderli anche coinvolgenti e da un punto di vista dell'attenzione forse anche un po' più divertenti alcune volte. Sono contenuti che hanno uno stampo narrativo in alcuni casi, in altri casi invece simbolico, in altri casi invece puramente spettacolari per immagini e colori. La seconda opera che viene rappresentata lì alle Terme Taurene, allora Delfina Angeloni, questo spettacolo dedicato ad Enea. Allora questo spettacolo dedicato ad Enea è tutta una provocazione, cioè praticamente ho scelto ideando lo spettacolo e impostandolo in maniera provocatoria appunto di utilizzare delle immagini che sono alcuni pezzi di film, alcuni sono immagini giornalistiche anche per invitarci a riflettere su cosa Enea ha smosso anche nel nostro inconscio, nei nostri sogni. Cosa sogneremmo noi se leggessimo Enea una sera? Ecco questa è l'idea che mi è venuta in mente. Quindi questo viaggio onirico racconta un po' le provocazioni da cui parte il testo dell'Eneide. Torniamo invece alle origini addirittura poi del percorso. L'Iliade è il racconto, allora, cantami o diva del Pelida Chiu. È l'ultimo spettacolo ma in realtà avrebbe dovuto essere il primo perché come tutti sanno è dall'Iliade che poi prendono vita tutte le altre due storie, insomma. Partono dalle rovine di Troia fumanti, sia il viaggio di Enea che quello di Ulisse, diciamo. È il mio lavoro particolare che spiego così. C'è un DJ sul palco che mixa dal vivo la musica, che sarà una musica elettronica, techno, house, musica modernissima e quindi è un lavoro per contrasto. Ho cercato di tirar fuori da una storia che è eterna, in qualche modo eterna, i collegamenti con l'attualità. E dopo il comitato Parenti Madonna del Rosario nasce anche quello composto dai dipendenti e dai familiari degli ospiti che non ne si riconoscono nelle critiche verso la struttura. Siamo un gruppo di familiari e di dipendenti della RSA Madonna del Rosario che non si riconosce nel famoso comitato Parenti che tanto si è adoperato in questi ultimi tempi attraverso il giornale e televisioni con atteggiamenti ingiusti e eliesivi nei confronti di una struttura che ha sempre assolto con grande professionalità i suoi compiti di assistenza ad anziani fragili. Centinaia di manifesti funebri sono stati affissi dai militanti di Casa Pound Italia davanti alle sedi IMS e in decine di città italiane. L'IMMS, si legge nella nota stampa di Casa Pound, si è fatta trovare impreparata a fronteggiare l'emergenza e ha addirittura aggravato una situazione già critica. Non ha consentito a centinaia di migliaia di cittadini di riscuotere la cassa integrazione e vari bonus di sostegno al reddito. Dopo le foto di Davide Valenti un altro nostro telespettatore ci ha inviato alcuni scatti della cometa che in questi giorni sta passando nel cielo sopra Civitavecchia. Questa volta le foto portano la firma di Valtteri Belli, altro appassionato dei corpi celesti che ha immortalato la Neo Ice in diversi momenti del giorno e con diversi paesaggi. Un vero spettacolo della natura per gli appassionati e non solo. Veniamo allo sport. Ancora un'occasione per sostenere un'eccellenza del territorio. L'Ater di Civitavecchia, per forte volontà del commissario straordinario Passarelli e del direttore generale Clementi, ha offerto, incomodato d'uso gratuito, una propria struttura inutilizzata alle boxer Christian Gasparri, punta di diamante della neonata Civitavecchia Box creata con l'appoggio della compagnia portuale. Gasparri si sta preparando per la sfida che lo vedrà protagonista Grosseto il prossimo 7 agosto per il titolo italiano VBC dei Super Piuma. Gasparri ha avuto qualche difficoltà negli ultimi tempi per l'assenza di una palestra in cui allenarsi e quindi è riuscito a risolvere questo problema grazie al sostegno dell'Ater. Vediamo le interviste. Emiliano Clementi, Christian Gasparri, una giornata importante qui all'Ater che si conferma vicino ai cittadini, in questo caso anche allo sport. Diciamo che l'attività di Christian, soprattutto la grande fatica che ha fatto durante l'impegno, la dedizione, durante anche un periodo particolare come quello del nostro paese in cui stiamo vivendo, la pandemia in atto e i risultati che ha raggiunto perché per noi già il fatto che arrivi a competere per il titolo italiano VBC è comunque un elemento di grande lustro per la città ma anche un elemento di esempio per molti giovani dell'Ater e di Civitavecchia e quindi noi abbiamo deciso di impegnarci, di dare una mano, un contributo a un giovane meritevole, bravo, onesto della nostra città. Christian, la cosa molto importante è che hai avuto qualche piccolo problema di palestra in questi suoi tempi e quindi ti puoi preparare al meglio per i campionati italiani. Guarda, innanzitutto voglio ringraziare il signor direttore Antonio e tutta l'Ater. Sì, ho avuto un po' di difficoltà, ci siamo allenati dentro i magazzini dove tengono i trattori, i camion di trasporto e dentro anche in giro, per strada, dentro i magazzini. Abbiamo fatto sì un po' di difficoltà però non ci siamo mai resi. Si, ho visto qualche immagine sui social davvero particolare, insomma non era al massimo ma adesso vuoi stare più tranquillo. Sì, sì, ora grazie all'accordo che abbiamo fatto con l'Ater sì, sì, sono molto contento e staremo molto più tranquilli. Cosa ti aspetta per questi campionati italiani? Quanto ci saranno? Come sarà questo campionato? Per questo trofeo è il trofeo delle cinture e sabato ci saranno i sorteggi e vedremo contro chi combatterò. Sono fiducioso, sono ben allenato e so che porteremo la cintura a casa. Voglio ringraziare la signora Cavini e il signor Fabrizio e la signora Monica Cavini. Quindi a questo punto ti ferete per Christian? Ti faremo, saremo presenti per Christian che comunque rappresenta scherzavamo prima il rocchi balboa di Civitavecchia la storia è quella del rocchi balboa di Civitavecchia. Saremo presenti saremo presenti anche agli allenamenti controlleremo che vada a letto presto che abbia una vita regolare in quest'ultimo mese e che Dio ce la mandi buona. E passiamo ad una segnalazione che ci arriva da Campo dell'Oro vista la presenza di un piccolo spazio verde condominiale infestato dalle zanzare. Il cittadino chiede al comune se è possibile rendere noto e soprattutto dare avvio al piano delle disinfestazioni nelle varie zone della città. Bene, questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale però vi ricordo di venire esantilizzati perché rimaniamo sui social Facebook e YouTube oltre che sul nostro sito www.drcgiornale.it Grazie per la gentile attenzione e naturalmente vi rimando alle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.